All'interno del nostro appuntamento con l'informazione troverete notizie sulla consegna delle firme in Emilia-Romagna, dell'iniziativa del 16 febbraio di Ance Regione Campania, Roma, della tavola rotonda online del 15 febbraio e del convegno nazionale a Milano del 24 febbraio. In chiusura la corrispondenza da Bari sulla manifestazione regionale contro l'autonomia differenziata. Lunedì 5 febbraio il Comitato No Autonomia Differenziata dell'Emilia-Romagna ha consegnato a Bologna presso la sede della Regione 6.000 firme raccolte a sostegno della proposta di legge ed iniziativa popolare per il ritiro della richiesta dell'autonomia differenziata avanzata dal Presidente Bonaccini. Giovanni Cocchi del Comitato No Autonomia Differenziata dell'Emilia-Romagna ha detto al Presidente Bonaccini, diciamo che questa è una grande occasione per lui per dimostrare la coerenza e la serietà delle sue affermazioni. Ha dichiarato di essere contro il disegno di legge Calderoli, che all'articolo 10 menziona proprio le preintese. Bene, allora non deve far altro che ritirare la sua. In calza su questo Antonio Madera, Bonaccini spera di raggiungere il suo obiettivo facendo finta di fare opposizione. Per Madera sono tre gli obiettivi della legge ed iniziativa popolare. Il primo è quello di informare e rompere la censura in atto in Emilia-Romagna già dal 2018 sul progetto di richiesta di autonomia differenziata al pari di Veneto e Lombardia. Il secondo chiede coerenza a Bonaccini. Il terzo dire a Campania, Puglia e Toscana di non iniziare i negoziati. Organizzata da Regione Campania e Anci, si terrà venerdì 16 febbraio a Roma un'iniziativa contro il disegno del governo sull'autonomia differenziata e contro il blocco del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del Ministero della Coesione. All'evento sono stati invitati i sindaci e gli amministratori del Sud, l'appuntamento è alle 11 a Piazza Santi Apostoli a Roma. Proprio per stimolare una reazione da parte degli amministratori meridionali, il coordinamento campano contro l'autonomia regionale differenziata ha scritto una lunga lettera al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per sollecitare un più aperto e fattivo impegno nella bantaglia contro l'autonomia differenziata attraverso tre cose immediate e semplici. Il quesido di costituzionalità rivolto alla Corte Costituzionale, il varo urgente in consiglio regionale di un dispositivo solenne di indirizzo programmatico che affermi, così si legge nella lettera, il rifiuto di principio dell'autonomia regionale differenziata e l'esplicita volontà di non utilizzo delle possibilità previste dalla legge. Inoltre, uno specifico e personale impegno di De Luca a sostegno di tutte le iniziative di mobilitazione collettiva con l'obiettivo che venga ritirata e che comunque non si producono ulteriori atti a carattere esecutivo. Donne e autonomia differenziata? Nessun problema è il titolo della tavola rotonda online che si terrà giovedì 15 febbraio le 17.30, promossa dai comitati no autonomia differenziata e dal tavolo è prevista la partecipazione di Donatella Albini, medica e ginecologa, Andreina Baruffini-Gardini, di se non ora quando di Udine, Maura Cossutta, Casa Internazionale delle Donne, Betty Leone, Vicepresidente nazionale dell'Ampi, Laura Ronchetti, Costituzionalista dell'Università del Molise. L'iniziativa può essere seguita su Youtube cercando il canale No ad ogni AD. È previsto a Milano il 24 febbraio il convegno nazionale promosso dai comitati contro ogni autonomia differenziata e dal tavolo No AD. Dal titolo l'autonomia differenziata fa male anche al nord. L'evento si terrà presso la Camera del Lavoro con inizio alle 10.30 e fino alle 15.30 per consentire la partecipazione a una manifestazione per la Palestina. Si parlerà dei livelli essenziali delle prestazioni e delle privatizzazioni. Dopo i saluti di Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro metropolitana di Milano e di Kader Tamimi, presidente della comunità palestinese di Lombardia, introdurrà i lavori Marina Boscaino, portavoce del tavolo No AD. Interverranno Alessandra Algostino, docente di diritto costituzionale dell'Università di Torino, Paolo Liberati, docente di scienze delle finanze di Uniroma 3, Maria Elisa Sartor, docente di organizzazione sanitaria dell'Università di Milano e Gianfranco Viesti, docente di economia applicata dell'Università di Bari. Seguirà il dibattito. Ed ora la corrispondenza dalla manifestazione regionale a Bari contro l'autonomia differenziata promossa da CGL UIL. Intervenuto tra gli altri il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Sentiamo cosa ha detto direttamente dalle parole di Tonia Guerra, che ha parlato dal palco al nome del PRC, riportando l'esperienza dei comitati contro ogni autonomia differenziata. Alla manifestazione ha preso la parola Michele Emiliano, che abbiamo anche incalzato su questo, si è detto disponibile a ricorrere alla Corte Costituzionale. Lo prendiamo in parola e credo che come tavolo nazionale dovremo riprendere questa interlocuzione con Emiliano, sperando di avere più successo rispetto alle richieste che gli abbiamo avanzato in precedenza. C'erano anche i sindaci, molti del Recovery Sud, che con le strisce in tricolori, con le fasce da sindaco, si sono espressi ovviamente contro l'autonomia differenziata. C'è da cogliere questa voglia unitaria, naturalmente sapendo che ognuno porta su di sé le proprie responsabilità, la propria storia, anche rispetto a quello che poteva essere fatto e che non è stato fatto. A cominciare dal 2018, quando le intese sono state sottoscritte ed è seguito un grande silenzio su questo. Credo che l'interlocuzione vada continuata nei territori così come facciamo a livello nazionale con tutti i soggetti con cui è possibile farlo. Il Comitato per l'Unità della Repubblica di Bari è impegnato in questo senso, si sta valutando la possibilità di inoltrare una petizione ex articolo 50 della Costituzione ai parlamentari, soprattutto ai parlamentari meridionali e al Presidente della Repubblica.